Finalmente, domenica 6 giugno, riapre ai tifosi il Palazzetto Andrea di Concilio di Agropoli nell'occasione della semifinale play-off del campionato di basket Serie C Gold Campania tra la New Basket Agropoli e Forio di Ischia. L'ingresso è gratuito ma limitato solo al 25% della capienza e quindi a circa 200 persone secondo il decreto legge del 22 aprile 2021 articolo 6,2. Per accedere al Palazzetto bisogna essere vaccinati anche con prima somministrazione da almeno 15 giorni oppure aver eseguito un tampone rapido nelle 48 ore precedenti alla gara eventualmente guariti da Covid negli ultimi sei mesi. L'ingresso è gratuito e per chi fosse interessato è possibile chiedere informazioni al 335 63 15 013. Intanto coach Franco Lepre sta intensificando la preparazione per affrontare Forio che circa sette giorni fa ebbe la meglio contro gli agropolesi vincendo in casa 84 a 74. Oltre a vincere la New Basket Agropoli deve allungare di più punti possibili perché nel caso in cui dovesse perdere nella partita di ritorno di mercoledì 9 giugno andrà in finale chi al termine dei due risultati avrà allungato con maggiori canestri. Nell'altra semifinale Benevento incontrerà Salerno in una gara vincente che si preannuncia molto equilibrata e sicuramente combattutissima.